Buonasera e ben ritrovati nella seconda puntata del Market Watch sul gruppo dei Gigi Non si aspettava nessuno perché siamo morti Ne ho fatto una sega prima, ecco perché Stati al nazo è uscita una balla e è successo un po' di roba Quindi effettivamente l'ha passato abbastanza tempo per fare un'altra Market Watch Anche perché sono usciti non uno ma ben due nuovi pacchetti Iniziamo, è il momento Parliamo di Wizzu, detto anche Why Survivors Perché vi sono state diversi Alterazioni dei prezzi Partiamo con Ground Xeno, la ruota di Dino Era in Paralisa 15 e ora sta a 30 Dio santo Dino non lo gioca nessuno, penso che non abbia fatto una top in 15 anni Dio santo Sta tanto, sì sì Poi Rock of Vanquish Stava a 18 in Paralisa, ora sta a 30 Cazzo, forte Save your soul La spell Quick Day Vanquish Da 22 a 30 anch'essa Vendo un rene Vanquish tutto sta a 450 euro, chiedete a Nico che voleva montarsi impazzito 420 euro senza le steak e quindi erano altri 90 euro Se avete un rene in più Vanquish solo è per voi Sì perché c'è da contare anche Medlov, Raisin, Cesare C'è assurdo Perché devi giocare Più o meno siamo sui 400 euro per la base Non fatelo Fine! Passiamo al prossimo pacchetto Hai tu Samu Il prossimo pacchetto è uscito via LMR o Battle of Legends Monstrous Revenge Questo è caratterizzato da più reprint E soprattutto dal market che è impazzito Perché la carta pilastro Dove essere Assault Syncron Per Elisa 30 euro l'uno Adesso che è uscito il mercato si è sistemato 5 euro 5 euro la copia Quindi per il set 15 euro Incredibile Carta fortissima La puoi giocare ovunque Assurda Se la prendete la cosa cazzo di facendo Questo tempo c'è no Allora lo studio Prendete 3 cazzo di Assault Syncron No perché vuole il sacco di prezzo Non potete Andiamo alla prossima La prossima a Zalea Skystriker a Zalea Ci pensavo a porti sui di Skystriker Porti tutti i mazzi Short printata insieme a Zeus Sono anche due short print del set È uscita a 12 Adesso sta a 22 10 euro di upmarket E la seconda quindi è appunto Zeus short printata In realtà non è sete di tanto In pre-release stava a 15 Adesso sta a 18 Il prezzo ancora è lì Comunque a Zeus Forte staple Evergreen Poi mio padre Le altre carte delle printate sono Rito E in generale è tutto l'archetipo dei Brave Rito che in realtà è uscita tipo a 10 euro in pre-release E adesso sta su 19 Quindi è salita Gente in macchina Non so se ce la fa a fare il parcheggio S Perché è una donna Altre due carte sono Engage Vabbè le print con la teletarto Che stava a 10 euro Sono sta a 5 E dualità 20 euro in pre-release E' stata fatta tantissima Poi giocare in desfile Porco mio Poi giocare in desfile Da 20 a 11 Che cosa sta facendo Non ha parcheggiato Update non ha parcheggiato Ha girato la macchina E se n'è andata Dovembre Esce il pacchetto Da 25esimo Hanno annunciato 3000 cose che vi stampano Sono Ashnib Veiler In permanenza Barone Savage Prosperity Droplets Sono grade tutte Specialmente le Prosperity Da 44 a 35 Barone che stava tipo 60 euro Adesso sta a 40 Se volete prenderla Prendetele Vengono listampate a novembre Se invece volete aspettare a novembre Per vedere tutti gli artwork Figli che devono uscire Tipo Parallela Multi Secret Quella particolare E ultra parallel Penso che abbiamo capito Avete capito Poi successivamente Partiamo dell'ultima parte Di questo video Perché è un video breve Non lungo Poi mi grazzo Scherzi a parte Non era uno scherzo Mannadium Si sta alzando Mannadium Se volete acquistarlo Ora o mai più Perché si sta alzando Ripeto Come il mio cazzo No Poi come hai detto Mon Samu Da comparsi Assolutamente breve Perché tutto è sceso Stava una cazzata E punk Perché anche sto è sceso Bello punk ragazzi Pagate le tasse Perché sono E nuda Questo è tutto Per il video di oggi Ma la signora di prima Grazie No va bene Comunque Non volevo direvelo Ma Access code poker È sceso Se volete prendere access code Dio cane Ha preso il marciapiede 3 2 1 Su Instagram YouTube Twitter Mi ce l'abbiamo Twitter Lo sto prendendo adesso Ciao ragazzi La signora di panza Cazzo L'ho manato Grazie a tutti Grazie a tutti